affoggia dopo i numerosi attentati degli ultimi giorni per rendere note le misure decise dal governo per combattere l'escalation criminale. Sentiamo un passaggio del suo intervento in conferenza stampa. Noi gli organici daremo la massima attenzione agli organici di questo territorio ma ritengo che non sia una questione soltanto di ampliamento di organico. C'è bisogno di un intervento strutturato, di un intervento forte ricorrendo proprio a quelli che sono i rinforzi del reparto prevenzione e crimine della Polizia di Stato. Cambiamo argomento, parliamo di Olimpia.